In quel tempo Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode, non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode per il suo compleanno fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla, chiedimi quello che vuoi e io te lo darò. E le giurò più volte, qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse anche la metà del mio regno. E la uscì e disse alla madre, cosa devo chiedere? Quella rispose, la testa di Giovanni Battista. E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo, voglio che tu mi dia adesso, su un vassoio, la testa di Giovanni Battista. Il re, fattosi molto triste, a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo dicapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio. La diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Vedere un re come Erode, il quale governa per conto del grandioso impero romano, una regione difficile e complessa come la Galilea, lasciarsi andare le più bieche passioni della carne e decidere di cedere in un colpo solo il suo regno, si lascia certamente sconcertati. Ma se facciamo un salto di duemila anni e guardiamo i nostri giorni, vediamo come anche tanti nostri governanti, in un recente passato, han ceduto volentieri alla tentazione della lussuria, combinando guai a catena, mietendo anche vittime innocenti. La storia si ripete, e il gioco della seduzione colpisce in ogni tempo. Inoltre il peccato della lussuria non arriva mai solo, ma si accompagna spesso a quello dell'ira e della violenza. Ricordate Davide, il santo re Davide? Alla vista di Bezzabea chiude in prigione ragione e fede, si lascia trascinare dai vortici della passione e macchina piani e menzogne per dar corpo agli sconvolgimenti dell'istinto ormai senza freno. Morirà Uria, marito di Bezzabea, ucciso dalla malizia di Davide. E morirà il bambino nato dalla passione, perché ogni pensiero e ogni azione che non siano ispirate da Dio attraverso la ragione illuminata dalla fede sono senza frutto. A questo punto però Erode si trova in buona compagnia, ma questo ovviamente non lo giustifica. Quello che ha combinato è tanto banale quanto grave. Banale perché perde la testa per una ragazzina, la quale senza colpo ferire lo conquista e lo sottomette. Grave perché associa a queste perdite di lume un crimine orrendo, la decapitazione di Giovanni. Ma perché Erode arriva a questo? Diversamente da Davide, che a un certo momento prende consapevolezza e grida a Dio il suo peccato, Erode è stretto da altri peccati, come il legame irregolare con Erodiade e dal suo immenso orgoglio che gli impedisce di fronte ai commensali di mancare al giuramento sconsiderato che aveva fatto. Ecco vedete, i peccati non arrivano mai da soli. Come una rete ci cingono e non abbiamo via di scampo. Una ragazzina mezza svestita che balla, cosa volete che sia? Il problema è che non riusciamo a limitare la tentazione. Cedere a quella significa inevitabilmente aprire altre porte, altri vizi, altri peccati. A presto! A presto! A presto! A presto! A presto!